ciao a tutti eccoci qua in questo piccolo video dove vi faccio vedere dove sono le infobox nei video sia da cellulare sia da computer e dove sono le playlist perché io spesso vi dico nei video soprattutto nei reperi charm che tutti i link li trovate nell'infobox e youtube sta facendo di tutto per nasconderle queste infobox e quindi vi voglio far vedere come si trova vabbè apriamo youtube prima di tutto e vediamo tipo non so qualunque qualunque video tipo questo di angenia creation apriamo il video ok ci parte la mitica pubblicità ma noi non ce ne frega niente chiudiamo la pubblicità e vediamo dov'è l'infobox nel suo video ma così come nel mio video ok noi vediamo che c'è il titolo con tanto di visualizzazione eccetera eccetera e poi c'è questo altro voi dovete cliccare su altro cioè io la metterei un attimo più nascosto e vedete che all'interno troviamo questa parte questa è l'infobox dove appunto lei mette i materiali che utilizza se cliccate ancora su altro avete tutti i link di quello che ha voluto scrivervi ok andiamo su un mio video quindi sul mio video sul mio video tipo questo che è un scusate tipo questo che era per l'ultimo ultimo che vi ho fatto ok si è aperto in modalità playlist comunque questo è uno degli ultimi video è l'ultimo video a periciarmi che ho fatto esattamente nello stesso modo abbiamo il titolo con la prima riga clicchiamo su altro e si apre la nostra infobox con i link di wallapop vinted se volete le resine eccetera eccetera i miei social la mia mail i link i link di dove sono i link perché non ci sono ah no questo è scusate questo è pandora quindi non c'è l'infobox normale qui ci sono i video utili quindi quando spesso mi chiedete ma come faccio a pulire ma come faccio a scegliere il bracciale come faccio mi fai vedere la tua collezione ecco qui ci sono un po di video utili che potrebbero appunto tornarvi utili se scendete ancora trovate anche le playlist delle playlist non tutte ma delle playlist tipo i tutorial di pandora che sono molto molto utili proprio i video quelli brevi tipo come si fa scegliere la misura del bracciale cosa servono le clip come si apre il bracciale cosa fare se troppo grande troppo stretto scusate queste onde che si vedono fastidiosissime ok ora vi ci tenevo anche a farvi vedere gli aperi charm quindi scusate ok gli aperi charm sono questi andiamo su aperi charm il video si apre direttamente ok andiamo sul classico altro ok abbiamo tutta la nostra infobox dopo i contatti ci sono i link ai prodotti vedete e se cliccate qua si apre direttamente all'iexpress andando direttamente nel nel link del charm che vi interessa e vi scrivo anche che se manca qualche link è perché il negozio da concorrato non vende più l'articolo e poi comunque la solita playlist le solite playlist che vi ho messo se invece volete andare a vedere le playlist e lo faccio con un altro canale però comunque in alto visualizza canale questo è il canale no avete aperto il canale home video short life playlist ragazzi playlist playlist e ci sono le ultime playlist caricate quindi marzebida per i charm vedete vinted bandora la mia collezione 2023 quando cliccate sopra c'è tutti tutti ci sono tutti gli ultimi video caricati dal più dal più giovane nel più nuovo al più vecchio ok se voi cliccate su play riproduci tutto vedete qua riproduci tutto loro partono e vanno avanti ad oltranza fin quando non lo fermate questo è da cellulare da cellulare infobox playlist abbiamo trovato tutto adesso andiamo a computer ok computer siamo in questo in questo schermato aperto youtube sto utilizzando chrome però dovrebbe essere uguale non ho fatto login in modo tale che così figura come ospite quindi in cerca mi ci scusate dato una botta tutto quanto mi cerco basta cercare marze alfri ok ecco qua il canale questo quindi clicchiamo sul pallino si apre il canale le playlist sono qua quindi andiamo direttamente in playlist e le troviamo tutte qua quindi puoi fare riproduci tutto o cliccare sulla scritta e tutti il resto dei video li trovate da questa parte da questa parte ok altrimenti dobbiamo cercare le infobox quindi andiamo in un video ok scusate che intanto qua scorre ok a peri charm l'ultimo questo qua ok parte ovviamente la pubblicità fermiamolo un attimo a noi ci interessa dov'è l'info box quindi esattamente come il cellulare il cellulare mi avvicino un pelo vediamo se riusciamo qua vedete qua ok qua andiamo su altro qui lo so potevo registrare il monitor ma così con il mouse e il infobox qui si vede decisamente meglio come organizzata ma qui sotto ci sono tutti i link ai prodotti con tutti questi sono link ai video ok dove c'è il simbolino questo simbolino è il link al video altrimenti li trovate in blu ok e niente quindi poi vi potete divertire eccetera 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 praticamente sopra ai sopra i commenti sopra ai commenti perché dopo i commenti li trovate molto facilmente ma l'info box io la nasconderei un altro pelino allora rifacciamo tipo con questo che è un altro peri charm fermiamo un attimo la pubblicità ok vedete i commenti ce li mettono belli in evidenza così uno può commentare rivederci grazie ma l'info box si trova in questo rettangolo grigio no questo qua quindi altro scendiamo e vedete che ci sono altri link ragazzi io vi ho fatto vedere tutto spero che vi torni utile e che finalmente riusciate a trovare i charm che vi interessano in questo caso comunque i prodotti che vi interessano quando vi faccio vedere i vari prodotti vi dico tutto vi lascio tutto in info box ecco è tutto qui questo è l'info box ci vediamo nel prossimo video ciao ciao